Waihe Kooj, benvenuti in questo nuovo video, io sono Andralink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Yo-Kai Watchbusters 2 Uh, ok Oggi sarà molto interessante, anche però nella scorsa, nello scorso video ci hanno lanciato una bomba di lore Il pirata Billy è ancora vivo, non me lo aspettavo, doveva essere intrappolato Un po' dico, è rimasto intrappolato e non se ne è saputo più nulla Allora sarà ancora vivo sto poveraccio, ed infatti lo è Un po' me lo aspettavo, un po' no Quindi è un twist piuttosto moderato per quanto mi concerne Però andiamo avanti nella storia e vediamo cosa ci aspetta in questo quinto capitolo Inoltre se vi ricordate nello scorso capitolo ci hanno anche detto, il vecchio ci ha detto Che Bambaraia può esaudire un qualsiasi desiderio Non ho capito se era solo uno o se era più desideri Però dice, puoi solo dire quello che ti pare Puoi chiedere quello che vuoi e lui te lo darà Bisogna vedere ora se è solo uno o se sono più desideri Però Sergente4 dice, hai detto che dovevamo affrontare una sfida Che tipo di sfida? Avrei bisogno di tre spade per ottenere il tesoro Forse potresti essere idoneo per averlo Tre spade del tesoro, sembra incredibile Le spade del tesoro sono rinchiuse in dei labirinti e le abbiamo custodite per generazioni Le spade nascoste indicano la strada dentro il labirinto Cioè ti indicheranno la strada per arrivare da Bambaraia forse È possibile che grazie a queste spade i Busters possano diventare sempre più forti Beh ovvio La spada è solo un prolungamento delle tue braccia Vuol dire che un'arma in mano ad un incapace è inutile, forse Sì infatti spetta all'utilizzatore avere la maestria nell'usarla Per un maestro di spada anche un bastoncino di legno può essere un'arma portentosa Qual è la differenza tra una spada grande e una spada normale? Mi ha fatto un attimo preoccupare È l'anima È l'anima ciò che rende una spada Quello che è È ciò che dà il potere alla spada Tamashino Chikara E allora è l'anima È l'anima Ed è l'anima che dà il potere alla spada È l'anima della spada che le conferisce il potere È l'anima del potere È l'anima ciò che dà il potere alla spada Se un maestro di spada brandisce una spada spirituale Può esorcizzare il male con essa E andare in paradiso Cioè hanno scritto un bordello di roba Un maestro di spada può esorcizzare il male con essa E attendere al paradiso Attendere significa aspirare Ecco aspirare al paradiso I tre mostri che hanno queste spade Si aggirano in tre diversi labirinti Mostrate il vostro valore e prendete la spada del tesoro Bene una spada del tesoro Un grande mostro Ci siamo allora Avrete bisogno di molto coraggio per affrontare questa fase della prova Si a quanto pare è tipo una prova che bisogna affrontare per arrivare a Bambaraia Abbandona la paura e abbraccia il coraggio Va bene allora per i sentimenti che ho nei confronti delle barrette di cioccolato abbraccerò il coraggio E Komasan lo fa invece per il gelato Andiamo bene Infatti lui dice Ai 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 Qui non va affatto bene Andiamo Busters Go 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 Molto bene Oh attenzione C'è ancora dell'altro Sembra che un nuovo aiutante dei Busters sia arrivato da noi Ora ve lo faccio vedere Ve lo presento È di Manticrand Che probabilmente Vuole Ci fa cambiare accampamento Ci modifica l'accampamento della base Vediamo un po' che combina di Manticrand Si Ci modifica la base Sono messo il cappuccio non perché Ho i capelli orribili Ma perché vorrei evitare di ammalarmi Inoltre Ho giocato un bel po' dall'ultima volta Cioè Da prima Ho giocato tantissimi altri livelli Ho scannerizzato qualche QR code E ho scoperto che Ci sono dei livelli bellissimi Ad esempio come questo Che si fa facilmente Perché basta che tu elevi l'equipaggiamento Quando vai poi nel dungeon Lo rimetti e fai il culetto a tutti Stessa cosa per questi due Ovviamente bisogna avere dei QR code O delle pietre infinite Per affrontare i loro livelli Cosa che io non ho Ce ne ho solo uno di ognuno Ho fatto un po' di punti Ho fatto anche il suo livello Più volte E praticamente Ho coros L'ho allenato subito Quando l'ho messo in squadra E ce l'ho al livello più alto Al 29 28-29 Quindi è più forte E ce l'ho al livello più alto Di nuovo c'è anche un livello Dove c'è Com'è che si chiamava Felimonio Reddojay L'ho affrontato più volte Per fare un po' di punti Però ragazzi Sto gioco è Buggatissimo Da far schifo Io Avendo il 3DS italiano Anche ho messo la modifica Non posso installare L'aggiornamento Anche ci provo Non me lo installa Quindi non posso Aggiornare il gioco Alla La versione fixata Che poi sarebbe anche La quarta Quella dove sono usciti Gli aggiornamenti Non posso farlo E di certo Non compro Un 3DS giapponese Solo per Scaricare l'aggiornamento Metterci La schedina La microSD Mettere l'aggiornamento E poi tornare Qui perché Io registro Con questo registro Registro Con il 2DS XL E Quindi Niente A volte si bug Mi si è buggato 4 volte in totale In poche parole Non trovavo l'uscita Non esisteva L'uscita Una rottura di scatola Alla fine Inoltre stavo pensando Anche di cercare Di reclutare Necolumbus Che almeno Trova subito L'uscita Trova Questo ne vale la pena No Proviamo di qua Allora Io ragazzi Cerco le scale Perché Per farmare Poi ci vengo Per conto mio Non è che Mentre registro Metto anche a farmare Se no Non finisco più La registrazione Che poi L'avete visto Registro in genere Due Due labirinti Per video Comunque sia Ragazzi Coros Si l'ho potenziato Al massimo Di livello L'ho boostato Ho boostato Solo lui Però ragazzi È forte Cioè È una bestia Assedata di sangue Proprio Non lascia scampo E sinceramente Non mi sento Neanche tanto In colpa Ad usarlo Perché Se il gioco Mi dà la possibilità Non vedo perché no Ci sono punti Poi in cui Gli yokai Spawnano Come Come se non ci fosse Un domani Ha un fastidio Ah no Qui Sicuramente è qui Perché guarda un po' Bon C'è il big boss Super ten Joe Super ten Joe Vediamo un po' Quanto è resistente Va Io lo starei attaccando Eh Se non le dispiace Mamma mia Coros Che ha combinato Aiuto Aiuto Ah L'alito Fedito Aiuto Va È andato Va E ragazzi Senza armi Eh Armi Insomma Si sono armi Alla fine Gli oggetti Però Porta Grazie Porta Quello che è Ma qui finisce Ah Peccato Volevo andare fino a lì Fino In fondo Peccato Non ho controllato neanche Che oggetti perdu Si potevano trovare Qui Contro Felimonio Fa più danno E per farmare con Felimonio Ora è ancora più facile Mamma mia ragazzi Che bello Oh 35 Oh L'hanno nerfata Dannati L'hanno nerfata Che ci faccio ora Vedete qui Ho tantissima roba Anche diverse monete Ho scannerizzato qualche QR code Quindi Però già Per oggi Ho slottato Quindi ve le farò vedere In un altro video Farò un video extra Che non occuperà Un giorno di caricamento Ovviamente Dove Slotto Un casino di roba Già ce l'avevo in mente Ok Andiamo qui E abbiamo Che poi è lui Blando O è la controparte Quell'altro Col colore più chiaro Blando Non ricordo Non ricordo Non ricordo quale Dei due Purtroppo Alcuni Yokai ragazzi Non mi zero O che ora C'è il boss Oh Stai buonino Eh Ah Preso male Accidenti Premo Troppo presto Ah Toma Anche senza Vediamo se succede Qualcosa Questa qui Subitissimo L'abbiamo fatta Neror Coros Ho avuto un attimo Di paura Di cosa stai Combinando Gli oggetti Come sempre Lasciano un po' Desiderare Bisogna andare Nei dungeon Quelli proprio Potenti Per cercare Roba di livello Più alto Tipo i dungeon Proibiti Quelli che si aprono Solo con Le pietre Vediamo se c'è Un po' di Loranza Ora Eccola che c'è No È ovvio Cosa c'è che non va Gibanyan Qualche problema Beh c'è qualcosa Di cui sono preoccupato È fatta che ho lasciato Delle barrette Di cioccolato In frigo E sto pensando Di mangiarne qualcuna Dopo che avremo Trovato il tesoro Lui invece Vuole mangiare Gelato soffice Soft cream Praticamente sarebbe Il gelato Che si vede anche Nell'anime Che è Tutta panna Credo che sia A proposito Della Della Buster's house Poco prima di partire Due di noi Sono stati Speriti Per una missione Importante Cosa Beh prima o poi Salteranno fuori Sicuramente Saranno aiutando Chi ne ha bisogno Oh Invece forse Sono qui Ah Oh Vernian Quindi stava Parlando di lui Ma anche un altro Ce n'era Sembra in forma Gibanyan Oh Vernian Ma che ci fa Da queste parti Come che ci fa Perché Perché Ho appena Completato Tutte quante Le richieste Di aiuto Alla Buster's house Adesso posso Aiutare Anch'io Sì Per l'avventura Ovviamente La tua forza Ci sarà Di molto aiuto Benvenuto Overgnan Ma per caso Hai visto Usabion Deme Deme Eccolo che arriva Gibanyan Ma per caso Li conosci Certo Sono Overgnan Usabion Sono nostri amici Oh Vernian Piacere di Conoscerti Io sono Usabion Piacere di Conoscerti Allora Appena ho trovato La spiaggia Sono arrivato Qui Io invece Sono stanche Voglio prendermi Una pausa Ma scusatemi No Ora Sicuramente Loro due Verranno in squadra Con noi Ma perché Komasan È vestito L'avventuriero Non mi pare Di averglielo messo Boh Vabbè Fa nulla Ah Il vecchietto Questo è uno Dei Dei Suoi Allievi Forse C'è un gran Fermento Laggiù Sembrano Tutti Molto Coraggiosi O Oira Cos'è Oira Dice che Sono tutti Quanti Molto Coraggiosi E che Forse Lui Non Dovrebbe Essere Da Meno Ah Sta Arrivando Qualcuno Qualcuno Sicuramente Qualcuno Come se Non bastasse Adesso Bisogna Anche Trovare Queste Tre Spade Del Tesoro Ecco Perché Non riusciamo A trovare Il Dungeon Del Tesoro Il Labirinto Del Tesoro Quello Che Loro Hanno Rubato Da Noi E Hanno Aperto Con La Chiave Ciò Che Il Grande Pirata Billy Stava Cercando Non era Un Semplice Tesoro Stava Cercando Bambaraia Se Sì Sì Belli Sì Diario Diario Viaggio Certo Che Siete Fissati Con Quel Diario Fin Da Quando Eravamo Rinchisi Nella Prigione Per Fortuna Parano È avuta Ad Aiutarci E Siamo Usciti Ma Quindi Sono Stati Rinchiusi Loro Ah Quindi Quella Sera Stavano Evadendo Praticamente Nella Prima Scena Di Gioco Si Vedono Che Stanno Scappando Dalla Polizia Quindi Probabilmente Erano I Vasi Grazie Alla Nonna Appunto Quel Posto Era Più Come Una Casa Per Noi A Quanto Pare Però Su Quest' Isola C'è Un Segreto Che Nemmeno Belli Sapeva E Ce Lo Dirai Nel Tuo Dialogare No A Quanto Pare Però Non Ce Lo Dice Lui Sta Blaterando Sul Che Belli Non Sapesse Questo Come Scoprire Questo Segreto A Quanto Pare Lui Ha Un' Però Per Entrare Nel Sotterraneo Nel Dungeon Senza Queste Tre Spade Che Però Appunto Sono Richieste Come Previsto Il Nostro Fratello Maggiore È Lo Stratega Della Famiglia Tutto È Pronto Lasciate Che Ci Pensi Io Andiamo Eh Piccoletto Hai Sentito Cose Che Forse Non Dovevi Sentire Dovreste Andarlo A Riferire Al Becchio Del Villaggio Jichan Nonno Stanno Pensando A un Modo Per Fermare Tutto Oh Mio Dio Che Succede Cosa C'è Che Non Va I Mostri Del Dungeon Sono Venuti Del I Mostri Gli Yokai Dei Sotterranei Sono Venuti Ad Attaccare Il Villaggio E Per Quale Motivo I Guerrieri Del Villaggio Cercano Di Forza Ma Sono Troppi Allora Dobbiamo Andare Subito D'aiutarli Forza Non Perdiamo Tempo Un Momento E Se Ci Fosse La Famiglia Bundor Dietro Questo Che Cosa Come Posso Come Fa Saperlo Questo È Dovre 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 Essere Facile Per Impossessarvi Della Spada Del Tesoro Quindi Dobbiamo Andare A Prendere La Spada Del Tesoro Per Contrastare La Famiglia Bundori O Prenderla Prima Della Famiglia Bundori Per Poi Poterla Contrastare Non Ha Vabbè Insomma È un discorso Un po' Strano All'ogni Modo Dobbiamo Darci Una Mossa Bene Siamo Tutti Pronti Allora Quindi Scusami Qual è L'ultimo Livello Da fare A questo Punto Contro Diamantosso Ma Così A caso Proprio C'è Anche La Petra Per Affrontare Pandora Vabbè Nel Prossimo Video Lo Vediamo Magari Nel Prossimo Video Carico Anche Qualche Slottata Così Insomma Ad Avere Un Po' Più Di Materiali Piuttosto Che Solo Diamantosso E Poi Dopo Anche Si C'è Sicuramente Qualcosa Da Fare Dopo C'è Un Po' Di Lore Però Lo Vedremo Nel Prossimo Episodio Per Questo Video Tutto Cuglio Come Sempre Vi Ringrazio Per Averlo Seguito Vi Ricordo Ovviamente Che In Vid Klav T 갓 Che T T T T T T T T T Grazie.